ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dove parleremo sempre del fantomatico vola a 432 hertz innanzitutto vorrei ringraziare tutti i ragazzi della ribella cavur per la loro disponibilità e loro aiuto per questa cosa e iniziamo subito noi abbiamo parlato nella vecchia conferenza 432 hertz l'inganno sonoro che potete trovare facilmente sul canale youtube della libreria cavur di istituzioni che si occupano della della promozione della 432 hertz bene oltre allo schiller institute che abbiamo appunto citato nella conferenza precedente ve ne è un'altra che si chiama appunto geminiani project che è stata fondata nel 2012 da un mio caro amico che si chiama gianmarco sanna bene cosa tra virgolette promuove questo geminiani project è una camerata di musicisti classici anche se molto moderni tra virgolette rispetto al musicista classico diciamo stereotipato fondamentalmente e promuovono appunto la diciamo l'utilizzo di questa frequenza quindi si aggiunge a tutta la lista di già di persone già quantomeno celebri nella nell'ambiente che promuovono il 432 hertz e da poco sono stati anche in italia perché si tratta di una camerata che risiede a londra in inghilterra per un concerto al teatro petrarca di arezzo fondamentalmente quindi andiamo avanti mi hanno anche chiesto varie volte di portare degli studi scientifici che dimostrassero appunto la veridicità di questa frequenza rispetto rispetto al la a 440 hertz che è il la utilizzato tra virgolette adesso nella nella musica contemporanea dagli anni 30 40 circa e nella precedente conferenza noi abbiamo parlato del lo studio di luca di nasso in ambito della dentistica che ha dimostrato che appunto la 432 hertz delle capacità diciamo calmanti rispetto alla a 440 hertz come se avesse appunto delle skills tra virgolette delle capacità di rendere più piacevole l'ascolto e di innestare dei stati di calma nelle persone bene in quest'anno nel 2019 è uscito un ulteriore studio che vi riporto qua che si chiama music tuned to 440 hertz versus 432 hertz and the health effects a double blind cross over pilot study ora scusate per l'inglese ma il titolo abbastanza lungo in soldolini cosa si tratta è uno studio dove hanno fatto un confronto tra le due frequenze tra la 440 hertz e la a 432 hertz quindi non più solo insomma per vedere gli effetti benefici della 432 hertz ma vedere il confronto appunto con l'altra frequenza che si utilizza oggi nella musica è uno studio che è stato diretto da due persone di letta calamassi giampaolo pomponi presso l'università di firenze e che cosa dimostra questo studio fondamentalmente dimostra che il la a 432 hertz rispetto alla 440 hertz ha delle capacità benefiche che sono state scientificamente rilevate in questo studio che potete trovare benissimo tranquillamente su internet presso la rivista explorer nel quindicesimo volume tra luglio e agosto nel 2019 quindi fondamentalmente un'ulteriore riprova di tutto quello che si sia detto precedentemente con gli studi di maria reynold di riccardo tuis di andrea doria di tutte queste persone che hanno indicato come il 432 hertz sia una frequenza appunto benefica e non benefica come il 440 e un'ulteriore informazione molto importante che mi è stata inviata di recente da un caro amico che si chiama luca gavazzi che è un ricercatore in ambito della mistica ebraica che mi ha contattato appunto sui social dopo aver visto il video dell'inganno sonoro la mia prima conferenza appunto sul 432 hertz entusiasta mi ha detto ciao edoardo ti scrivo perché devo assolutamente parlarti di una scoperta che ho fatto in ambito appunto della gematria e che cos'è la gematria è quella branca della mistica ebraica che collega i numeri fondamentalmente con le parole quindi ogni numero ha un corrispettivo verbale mentre ogni parola ha un corrispettivo numerico e dice io gli chiesi ma che cos'è che hai scoperto no di così importante niente che praticamente la parola universo e nota del cuore quindi queste due parole scusate le parole universo e nota del cuore hanno il corrispettivo numerico 432 quindi il numero 432 nella gematria ha praticamente come significato universo o nota del cuore quindi ha questa diciamo corrispondenza quasi magica simbolica embedded mi verrebbe da dire in inglese mentre ahimè la parola diciamo morte e stregone le parole morte e stregone hanno un corrispettivo numerico indovinato un po' quale 440 quindi il numero 440 significa morte o morto o le varie insomma altre varie altre persone o stregone quindi vi lascio diciamo con questa suggestione che ci sarà mai forse una un ulteriore significato magico simbolico per quanto riguarda il 432 grazie a tutti per la visione e ci vediamo alla prossima